Siamo su questa splendida terrazza con una grande atleta Sara Simeoni che è appena arrivata perché il 31 sera sarà ospite della World of Fame Gioiosana. Allora le sue prime impressioni? Ma le prime impressioni? Va bene, io ho già il fatto di venire in Sicilia, ero già contenta così perché sono sempre stata molto bene, la Sicilia è bellissima. Gioiosa Marea non la conoscevo quindi è stata un'occasione bella per vedere questa parte di Sicilia poi con queste isole di fronte veramente mi piace essere qui, sono contenta di essere venuta anche con la famiglia perché i momenti belli è bello condividerli con le persone care quindi mi fa piacere essere qui con loro. Ecco questa sarà un'occasione per noi Gioiosani di ricordare anche una nostra cara con cittadina un'altra grande atleta Anna Rita Sidodi. Sì, Anna Rita che purtroppo ci ha lasciato molto presto, è stata un'atleta importante per l'atletica italiana ma per lo sport e veramente la ricordiamo con affetto, certo mi sarebbe piaciuto venire qui a casa sua e stare insieme a lei, purtroppo non è così però la ricordiamo, è stato un esempio molto importante penso per le ragazze, per le giovani, lei è un personaggio che tra l'altro facendo anche una specialità che richiede sicuramente impegno per raggiungere un risultato, lei l'ha sempre fatto veramente col sorriso sulle labbra e questo è bello. Allora appuntamento a domani alla conferenza stampa di presentazione della World of Fame a Gio Samarea all'auditorium. Grazie, sì un appuntamento a tutti e veramente complimenti per chi ha avuto questa bella idea che sicuramente è importante e che bisognerà sostenere sempre più per il futuro perché è stata un'idea brillante soprattutto per un posto come questo, come Gioiosa Marea che è importante soprattutto per l'interesse che hanno i giovani nell'impegnarsi nel portare avanti questa bellissima iniziativa.